oggi andremo a preparare le castagnole di carnevale con la ricotta quindi rimanete con me che iniziamo subito a prepararle benvenuti e bentornati su pronto e servito il mio canale amatoriale di cucina dove potete trovare tante ricette facili e veloci andiamo a vedere quello che ci occorrerà per realizzare queste deliziose castagnole di carnevale con ricotta per realizzare le nostre castagnole di carnevale con ricotta ci occorreranno 200 g di farina 00 200 g di ricotta di pecora 40 g di zucchero un uovo 15 g di limoncello la scorza di un'arancia 7 g di lievito per dolci un pizzico di sale dopodiché un po di olio di semi per friggere prima di iniziare come sempre vi ricordo che se non siete iscritti al canale potete farlo adesso schiacciate il pulsante giù iscriviti e la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle prossime ricette e adesso possiamo iniziare in una terrina andiamo a mettere la ricotta e adesso aggiungiamo la scorza di un'arancia aggiungiamo poi il pizzico di sale un uovo lo zucchero il limoncello e iniziamo a dare una mescolata dobbiamo ottenere una crema liscia dobbiamo togliere tutti i grumi dalla ricotta a questo punto nella farina aggiungiamo il lievito e andiamo a setacciare tutto all'interno del nostro composto a questo punto continuiamo ad impastare con la marisa dopodiché quando l'impasto sarà compattato iniziamo ad impastare con le mani l'impasto risulterà leggermente appiccicoso ma non vi preoccupate perché deve essere così bene il nostro impasto è pronto adesso possiamo andare a formare le nostre palline quindi come prima cosa ci andiamo ad ungere le mani con un po' di olio e andiamo a creare le sfere di pasta più o meno di questa dimensione con questo sistema eviterete di utilizzare la farina e quindi eviterete anche di sporcare l'olio al momento della frittura con queste dosi vi verranno circa 30 castagnole e adesso che le abbiamo preparate tutte ci spostiamo ai fornelli per friggerle quando l'olio sarà ben caldo circa 170 gradi possiamo buttare giù le nostre castagnole li andiamo a mescolare spesso in modo che si dorino da tutti i lati una volta raggiunta la doratura desiderata possiamo scolarle con questo sistema otterrete delle castagnole rotondissime una volta fritte tutte possiamo dare una spolverata di zucchero a velo oppure li passiamo nello zucchero semolato e adesso le nostre castagnole di carnevale con la ricotta sono pronte per essere gustate e anche questo è pronto e servito noi come sempre ci vediamo alla prossima ricetta ciao se il video è stato di tuo gradimento ricordati di lasciarmi un like e se non sei iscritto al canale falla adesso adesso ti lascio ai prossimi video ciao 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 ciao